La bella Alena Seredova è stata tradita nel peggiore dei modi. La bomba sul suo matrimonio ha spaccato il cuore dei fan. Nata nel 1978 a Praga, in Repubblica Ceca, l'avvenente Alena Seredova ha iniziato giovanissima la sua carriera di modella. A soli 15 anni aveva già cominciato a sfilare sulle passerelle internazionali più prestigiose. Ha inoltre rappresentato il suo paese nelle kermesse di Miss Mondo. E si è classificata tra le prime cinque reginette di bellezza. Alena Seredova ha inoltre posato per riviste del calibro di Penthouse Europe, Playboy Europe, Spy, Extreme, e, Quo, nonché per il noto, Calendario Max. Attualmente coproprietaria del marchio, Baci e Abbracci, Alena Seredova ha gradualmente abbandonato il suo ruolo di modella per dedicarsi al settore dell'imprenditoria. E da qualche anno ha trovato la felicità tra le braccia di Alessandro Nasi. I due hanno avuto una figlia nel 2020. E il 17 giugno del 2023 la coppia ha scelto di sposarsi a Noto, in Sicilia. In tale occasione Alena Seredova è apparsa raggiante e assai emozionata. Ma il suo sorriso nasconde un dolore lancinante. Ben prima di convolare a nozze con Alessandro Nasi, Alena Seredova è stata unita per molti anni al calciatore Gianluigi Buffon. Il portiere e la modella si sono scambiati i solenni voti nuziali nel giugno del 2011, dopo aver regalato i Natali ai due figli Luis Thomas, nato nel 2007, e David Lee, venuto alla luce nel 2009. L'idilio romantico, però, si è interrotto bruscamente nel 2014 a causa dei reiterati tradimenti di Gianluigi Buffon. Alena Seredova, peraltro, avrebbe scoperto le infedeltà del marito dai media. E tale rivelazione ha lasciato in lei cicatrici profonde. A distanza di molti anni dalla separazione, infatti, l'ex modella ha riferito a, oggi, non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica. Ha però precisato, una delle cose di cui vado più orgogliosa è che non sono mai caduta nella trappola di parlare, o sparlare, del mio ex marito. La cosa più facile e naturale sarebbe stata sputare fuoco. Attualmente Gianluigi Buffon fa coppia fissa con Ilaria D'Amico. E secondo alcuni rumors sarebbe stata proprio quest'ultima la terza donna nel matrimonio tra il calciatore e Alena Seredova. L'ex modella ha infine motivato la sua scelta di non ricamare sui tradimenti del portiere, adducendo il pretesto di non aver voluto arrecare ulteriore dolore ai figli nati dalla relazione. Avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà. E sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto. Anche se la ferita è profonda, ha spiegato Alena. Penso che sia stato un grande regalo anche per me.